Allenamento pomeridiano allo stadio Renzo Barbera per il Palermo. La squadra di Walter Novellino ha provato questo pomeriggio schemi e situazioni di gioco verso la partita contro la Lazio in programma domenica sera proprio allo stadio Renzo Barbera. Vi ricordiamo naturalmente che i tagliandi sono in vendita seguendo le linee guida della promozione tutti per una con grandi agevolazioni per i tifosi che vorranno venire allo stadio. Provati naturalmente degli schemi su palla inattiva e anche delle possibili strategie di formazione in vista della partita contro la squadra di Simone Inzaghi che esordirà sulla panchina della Lazio proprio nella sfida contro il Rosanero. Domani il Palermo sosterrà la seduta di rifinitura. Walter Novellino risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.